ecco per avere un'altra completezza cioè un'altra etichetta che ovviamente serve a completare questo discorso l'etichetta di new wave of british avy metal che si scrive n w o b h m è un acronimo e praticamente questo con questo acronimo si intende la primigenia forma di avy metal quindi nata praticamente alla fine degli anni 70 in inghilterna che ovviamente ha dato poi il via a quello che che c'è stato ovviamente il gruppo c il cioè la guida cito e primissimi iron maiden quali ovviamente di del debut album ecco anche di killers i saxone moto red io questa lista che avrei aggiunto anche seitan e seitan e gli angel witch poi tra l'altro gli angel witch secondo me adesso magari può essere che qualcuno lo prenderà come una bestemmia però secondo me gli angel witch erano erano decisamente anche migliori degli iron maiden per dire a livello di costruzione di atmosfera è una scena che comunque tenete tenete presente che è una scena che comunque soprattutto nel nome degli angel witch si lega anche a qualcosina a livello di doom perché comunque spesso gli appassionati di doom vanno a ricercare anche la cosiddetta scena del dark sound quindi del pro del progressive dark sound che sono un po tutti quei gruppi tipo il biglietto per l'inferno piuttosto il balletto di bronzo cioè di cui tra l'altro io ho anche qui una recensione da leggervi sono un po tutti quei gruppi che partivano dal prog quindi dal prog degli anni 70 quindi per dire yes pink floyd eccetera eccetera però ci aggiungevano dentro delle tematiche spesso oscure o comunque un'immagine un po così oscura e quindi di conseguenza hanno dato via poi a quest'altra quest'altra scena chiamata dark sound e effettivamente gli angel witch spesso vengono accostati anche a questa questa scena poi c'è la scena new metal che ovviamente adesso è morta e sepolta purtroppo lo dico perché comunque in realtà il new metal è stato diciamo la scena che ha caratterizzato un po la mia adolescenza io all'epoca comunque non è che lo ascoltasse moltissimo dico la verità perché effettivamente mi vergognavo un po dal momento che il new metal purtroppo all'epoca era davvero commerciale nel senso passava tanto su un tv in realtà all'epoca già comunque apprezzavo gli spanish anche però purtroppo gli spanish anche già qui in italia li si trovava già a fatica poi ovviamente tenete sempre presente che all'epoca internet non era ancora così diffuso come oggigiorno spesso tanti gruppi non li si trovava e basta non è come oggigiorno che vai su youtube e trovi tutto da tutto il mondo c'è da dire che luca signorelli qui in questo in questo piccolo paragrafo non ha detto tutte le cose che andrebbero dette sul new metal per questo rimedierò facendovi una lettura a parte andrò a noleggiare un libro che tratta solamente new metal quindi poi vedremo bene comunque le varie ondate perché ovviamente anche il new metal è diciamo è suddivisibile in in ondate diverse allora new metal è una storpiatura di new metal indica il trend musical nato alla fine degli anni 90 che ha visto gruppi come limp beats kit slip note proporre un connubio spesso un po artificioso fra hip hop e heavy metal in realtà spesso il termine indica gruppi molto più vicino all'area alternative qui un po si vede un po di disprezzo nei confronti comunque del new metal perché in realtà il new metal le primigenie forme di new metal erano già presenti sul finire degli anni 80 ad esempio gruppi come gli stack mojo per dire sono padri fondatori del genere ancora prima dei corn in realtà i corn sono il nome più famoso i corn erano già in giro ancora prima del 1994 però in realtà i primi primi padri fondatori se dovessimo andare a vedere vedere bene le ondate sono state ad esempio gli stack mojo che fondevano anche anzi gli stack mojo in realtà erano già ancora più influenzati da un discorso quasi di hardcore della scena di new york qualcuno ci mette dentro anche i bio hazard e poi ovviamente certi passaggi dei pantera ecco effettivamente poi influenzeranno soprattutto la seconda ondata nel new metal e un altro gruppo che effettivamente può essere considerato il capostipite in realtà sono i body count e body count che erano addirittura usciti negli anni 80 che sono stati tra i primi a mettere dentro questo discorso di 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 rap codi a dire dal punto di vista delle vocals tenete poi presente che comunque gli anthrax stessi che erano ascrivibili alla scena 3 in realtà poi avevano collaborato con i cypress il per dire già negli anni 80 poi la scena power metal allora la scena power metal è stata una scena che ha fatto un gran successone nel 1998 e ancora prima di fatti all'epoca usciva addirittura un giornale chiamato power zone che era diciamo un fratello di metalhammer nel senso era curato dagli stessi scribacchini di metalhammer perché il power all'epoca vendeva come il pane cioè si vedeva semplicemente si vedevano sempre solamente i rhapsody che oggi che oggigiorno sono noti come rhapsody of fire però agli inizi erano i rhapsody e basta i blind guardian e gli hammer fall diciamo che quelli che apprezzavano un pochino più di tecnica ci mettevano dentro anche i labirint e gli avevano fatto un successone tremendo altrimenti detto neo power epic o classic metal e l'esagerazione di alcuni degli stilemi più classici a cui è legato il termine heavy metal melodie potenti e spesso quasi barocche musicalità piuttosto complessa largo ricorso ad assoli ad argomenti e ad arrangiamenti complicati tematicamente spesso fa risparimento a situazioni fantasy o fantastiche la scuola di riferimento è quella tedesca della metà degli anni 90 gruppi principali blind guardian rage halloween va ricordato che furono definite power in origine le band americane negli anni 80 come riot metal charge sabotage armor the saints o gruppi che suonavano un metal potente strutturato ma non legato al trash allora c'è da fare una precisazione perché altrimenti se parlate una volta mi era successo ecco diversi anni fa quando ero ancora piccolina mi era successo di parlare con una persona che mi aveva un po' bacchettato ma ragion veduta perché effettivamente avevo sbagliato a usare un po l'etichetta avevo usato a sproposito l'etichetta epic anche qui luca signorelli la usa un po sproposito allora per quanto oggigiorno magari se una persona ascolta power metal quindi con power metal intendiamo un po alla corrente diciamo moda iola quindi hammer fall rhapsody e o blind guardian anche se ci sarebbe addirittura da fare un ulteriore suddivisione perché in realtà i rhapsody più che ascrivibili al genere power metal in realtà col seno di adesso sarebbero ascrivibili al genere sinfonica perché i rhapsody erano molto più sinfonici e orchestrali dei blind guardian in realtà c'è una differenza tra power metale di epic perché l'epic legato a pochi nomi della scena come ad esempio sare tango o gli omen anche ci sono comunque anche altri gruppi adi che rientrano nel nel genere epic però adesso effettivamente non essendo una una specialista vi posso dire che i tre principali sono i virgin steel certi cd dei virgin steel gli omen e i sari tango che effettivamente sono un pochino più grezzi rispetto alla variante power metal che 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 la come la si intende ad esempio quando ci si parla degli halloween allora ad occhi non cioè ad occhi ad orecchie non diciamo uno specialiste magari potrebbero potrebbe essere difficile capire la differenza però sappiate che c'è proprio questa differenza nel senso che se voi sentite gli omen e i sari tango soprattutto e poi li andate a andate poi a sentire i blind guardian voi vi renderete conto che c'è una differenza da un punto di vista di di ritmo molto più grezzo perché i sari tango gli omen rientrano nell'epic metal mentre invece i rhapsody o soprattutto i blind guardian e i e gli halloween rientrano nel power metal perdere questa è proprio una cosa che vi dico per evitare di di fare infuriare appunto chi chi è invece appassionato di epic che spesso gli girano i cinque minuti se c'è se sente qualcuno dire che non c'è differenza tra power ed epic poi prog metal anche detto anche detto prog prog metal è nato da una costola del progressive rock influenzato da band come pink floyd rush utilizza quasi tutte le caratteristiche e temi del prog in un contesto molto più duro e rock gruppi fondamentali dream theater queens rice attualmente tenete presente che va un po di moda questo genere chiamato prog datt metal che è proprio un genere che tra l'altro io ignoravo che è diciamo che è tipico degli ultimi anni penso anche che sia saltato fuori nel 2009 dall'idea diciamo sommaria che mi sono fatta e che effettivamente va a ripescare l'eredità dei cynic o dei nocturnus o dei pestilence che erano più legati al discorso diciamo techno death metal e ci va a mettere dentro anche questo discorso di prog di spesso comunque anche di avant garde ad esempio ieri ho sentito un gruppo chiamato persephone che sembravano quasi un mix tra diam tia tra dream theater cynic legati ring per dire o anche catatonia che sono un gruppo che mi è stato proprio suggerito da da un ragazzo che appunto ha commentato il discorso che avevo fatto sul death metal ha inserito bene questa nuova corrente che potremmo considerare questo connubio ecco di questo matrimonio tra il prog e death metal che è alquanto interessante e che effettivamente io ho sentito molto poco sentito giusto un paio di band al riguardo ma che effettivamente se devo essere sincera lo preferisco rispetto comunque al degenere che al degeneramento ecco in cui poi è degenerata la scena symphonic metal perché comunque negli ultimi tempi la scena symphonic metal non veramente non non se ne poteva più cioè avevano portato dentro troppe cose quasi al confine col pop melense tedioso da morire quindi ben venga che ci sia stato questo cambiamento e dal punto di vista di ascolti del pubblico poi street metal l'abbiamo visto prima comunque un derivato dal glem ecco diciamo che il gemello del glem nel mutuo al suono e gli eccessi in un contesto molto più grezzo e hard gruppi di riferimento guns and roses a noi rocks e poi come abbiamo detto moto del crew poi trash metal genere musicale nato nella bay area new york alla metà degli anni ottanta è una mistura di metal classico e punk caratterizzata da ritmi che molto potenti e veloci e un granitico muro chitarristico testi piuttosto estremi le band più famose del trash che poi ha rinnegato suoni metallica seguiti dai megadeth slayer e testament allora la stessa scena trash metal in realtà merita un distinguo perché c'è il trash metal della bay area che è quello ad esempio del sound tipico dei metallica dei megadeth dei death angel e poi c'è il trash metal molto più estremo anche della della corrente tedesca e quindi sodom creator o gli stessi slayer per dire gli slayer di rain in blood o dei dark angel che poi da quel da quella forma di si chiedo scusa perché fuori c'è un temporale tremendo quindi si sentiranno appunto tuoni e lampi comunque come dicevamo quella corrente lì di trash metal così estremo poi ha dato vita ovviamente al black e al death metal ecco poi l'ultimo genere che lui mette diciamo simpatico da leggere è il genere del white metal che in realtà è un genere un etichetta che vuol dire cioè non identifica principalmente un discorso di sound e di suoni identifica più che altro un discorso di testi il white metal è una corrente principalmente americana che si propone di coniugare musica mete metal dichiara derivazione a oro comunque molto melodica e potente contesti di ispirazione cristiana tenete presente che in realtà white metal è un etichetta sciocchina perché effettivamente identifica solamente quelle qui spesso viene usato ecco anche spesso in senso dispregiativo per identificare quei gruppi cristiani io gli unici che ascolto sono in arnia anche se però comunque non mancano gruppi black metal cristiani ad esempio i gli antestor per dire gli antestor sono forse i più celebri ma ce ne sono anche altri e mi pare gli orto gli orto che mi pare fossero spagnoli che sono addirittura gruppi black metal però sono effettivamente cioè di fatto hanno testi cristiani nei anti demonici quindi in realtà l'etichetta white metal è un'etichetta un po sciocchina che si usa per etichettare di fatto tutti quei gruppi che propongono magari vari generi quindi prog death black trash sinfonica eccetera eccetera però lo fanno da un punto di vista di testi di matrice cristiana curiosamente però ve lo dico curiosamente perché non si potrebbe pensare però ve lo dico perché è buona cosa che si sappia come cosa tenete presente che il metal anche quello che tratta temi cristiani cioè anche quello che faccio di dedicati a gesù cristo la madonna eccetera eccetera in realtà viene criticato dagli stessi cristiani integralisti ad esempio il caso di but indaro poi sotto ve lo linko but indaro è un feroce un feroce evangelico uno dei più feroci in italia che lui effettivamente ha addirittura da criticare un discorso di rock e di metal cristiano cioè non gli va bene neanche quello perché effettivamente stando appunto ad alcuni versetti della bibbia è proibito comunque suonare musica che non sia lecitamente biblica e metterci dentro un discorso di anche di testi cristiani tenete presente che nella bibbia non è che manca un discorso di musica nella bibbia sono citate diverse pagine della bibbia dove questo quel personaggio suona ad esempio le donne suonavano i tamburelli oppure c'è anche ci sono anche citati ad esempio la la cetra se non ricordo male tipo l'arpa però effettivamente per la corrente più più integralista più fanatica di cristiani è comunque proibito metterci dentro la chitarra perché loro la chitarra la considerano uno strumento chitarra e batteria li considerano uno strumento derivato dal diciamo dal mondo culturale africano quindi ovviamente dal discorso religioso africano e delle religioni africane tra cui appunto il voodoo che si basano su un discorso di percussioni sì scusate ho messo in pausa perché veramente ci sono dei tuanni mostruosi e quindi probabilmente non si sente neanche quello che sto dicendo comunque come dicevo in realtà questo è una cosa da sapere tenete presente che per gli evangelici più i cristiani più fanatici è comunque proibito fare un discorso di musica rock proprio perché nel rock c'è dentro la chitarra c'è dentro soprattutto la batteria che il discorso delle percussioni deriva ovviamente dalla musica africana perché ad esempio la musica africana che viene usata nelle cerimonie religiose comunque animiste e è basata su un discorso di percussioni quindi il rock e roll in realtà nasce dal genere nasce dal cioè dalla musica portata avanti dal dagli ex schiavi che lavoravano nei campi di cotone sapete ovviamente il genere blues e jazz si è originato dall'esperienza dalla sensibilità artistica ecco dal talento artistico dei degli ex schiavi dei campi di cotone che ovviamente prima di convertirsi al cristianesimo erano ovviamente animisti quindi è per questo che i cristiani più integralisti considerano il rock sempre comunque legato a un discorso di di adorazione del male ecco anche quei gruppi che comunque trattano cristianesimo perché comunque questo vale anche per la scena rap perché comunque esiste anche il rap cristiano però se voi andate a vedere i siti degli evangelici che parlano di rap anche del rap cristiano in realtà loro non possono vederli i rapper cristiani non possono vederli comunque i musicisti rock ma anche country che comunque parlano di cristianesimo quindi in realtà paradossalmente i musicisti o comunque gli appassionati di white metal vengono discriminati non solo comunque dalle persone magari che sono anticristiane ce l'hanno su comunque con un discorso di cristianesimo ma vengono discriminati anche proprio dai loro fratelli cristiani per dire quindi un po' la cosa diciamo paradossale ecco becchettiana del genere white metal è questo che in realtà paradossalmente può essere molto più apprezzato da una persona magari anche anticristiana che comunque magari il testo evita di leggerlo e apprezza solamente la melodia come ad esempio il caso della sottoscritta che non effettivamente da un cristiano integralista che lo condannerebbe sempre comunque io poi personalmente non ho alcun problema questo esempio spesso una cosa che forse magari non non è ben chiara io ad esempio non ho alcun problema a intervistare gruppi che hanno un'ascendenza diciamo nei testi un'ascendenza di matrice cristiana cioè io non avrei alcun problema ad intervistarli per dire perché io appunto da un punto di vista musicale è valuta la musica ovviamente posso magari avanzare delle critiche ai testi però se il gruppo fa della musica veramente valida io sono da prima a dire che sono validi per dire anche se ovviamente i testi non li posso apprezzare ma per dire vi faccio giusto questo nome in arnia per dire secondo me sono veramente eccezionali hanno fatto dei cd che sono veramente fatti bene e vabbè loro sono cristianissimi però voglio dire chi se ne frega voglio dire il testo non lo leggo mi interessa la musica io spesso in arnia li metto anche su così tanto per sottofondo certo non è che mi ci strappi i capelli però per dire non è che dico che il critico a priori perché sono cristiani allora non possono fare non possono suonare musica suonano bene sono bravi anzi ve li consiglio ecco i testi vabbè ovviamente se non sopportate un discorso di cristianesimo li troverete insulsi per dire però musicalmente sono validi e questo vale anche per gli antestor allora vediamo un po' come conclude qui ecco tenete presente comunque ecco che forse diciamo i padrini della scena comunque sono stati gli striper che comunque gli striper tenete presente che appartengono alla scena glam e metal gli striper tra l'altro avevano un look particolare perché se ne giravano con queste tutine gialle nere a strisce niente poi lui cita anche due gruppi che io francamente non conosco i barren cross e i blood god blood good però io francamente non li conosco quindi non vi so dire neanche effettivamente a che genere siano ascrivibili probabilmente comunque a l'hard rock forse allora in questo glossario stranamente manca il gothic metal e ovviamente manca anche il symphonic metal il symphonic metal forse perché forse perché all'epoca 2001 ancora non andava tanto di moda anche se effettivamente i nightwish erano già in giro nel 1998 ancora prima comunque lui non ha messo non ha messo l'analisi a questi due generi cioè il gothic metal primi genio di nomi come i paradise lost innanzitutto del periodo gotico quindi 1991 poi i tristania di widow's weeds i theater of tragedy del debut album e soprattutto di velvet darkness thy fear e un altro nome anche se meno famoso però che secondo me è stato l'ultimo nome in campo gothic metal puro e tradizionale tradizionalista sono stati the sins of thy beloved con lake of sorrow diciamo che dopo questi nomi qui ovviamente c'è stato una moria del genere perché poi di fatto sono cominciato hanno cominciato a subentrare dentro queste donzelle modello taria dei nightwish modello cantante degli epica modello cantante dei within temptation che peraltro poi comunque within temptation in realtà del debut album enter erano comunque ancora ancora scrivibili a un genere gothic metal perché c'era comunque dentro un per quanto risicato growth maschile in realtà poi hanno cominciato a portare dentro un discorso di sinfonia hanno abolito il growth maschile hanno ovviamente fatto canzoni più melodiche più corte perché il gothic primi genio poteva durare anche 8 minuti a 10 minuti di canzone su un tema lenti e sul fury loro ci hanno portato dentro la melodia la voce femminile spesso lirica molto più spesso in vena pop hanno tolto il growth maschile hanno dimezzato i tempi hanno messo dentro anche spesso delle tematiche sciocchine e di conseguenza poi c'è stata tutta questa moda gli stessi lacuna coil e vanicen se per dire in realtà che tutti etichettano come gothic metal in realtà sono più iscrivibili a un genere direi melodic metal in realtà non perché adesso li stia disprezzando per carità però col gothic metal originale non c'entrano un fico secco anche se effettivamente lacuna coil in realtà e quelli del debut album comunque partivano da una ispirazione di matrice de gathering ecco i de gathering del debut album di always poi altri nomi che comunque hanno girato comunque hanno formato la scena appunto come dopo i de gathering di always e soprattutto quelli un pochino più commerciali di di mandilion i made and bride che vengono un po' riconosciuti tra i padri fondatori anche se effettivamente i made and bride forse agli inizi rentano più in un discorso di death doom i catatonia i catatonia soprattutto dei cd più melodici spesso anche gli amorphys comunque vengono meglio gli amorphys sono del debut album da tuonela in poi i sentency che tra l'altro i sentency dagli inizi partivano come gruppo death metal i catatonia li abbiamo già detti sono un po' quei gruppi che comunque hanno formato un po' questa scena anche se poi in realtà poi loro hanno spesso cambiato genere nel senso per direi the gathering da direi auto misura planet e if then else poi si sono comunque virati su un discorso di post rock addirittura quasi con tendenze trip hop di matrix e party shed o altrimenti anche ad esempio gli stessi catatonia per dire sono comunque virati su un discorso di post rock quasi di avant guard diciamo così come ad esempio gli amorphys mentre invece ecco gli unici che un po' sono rimasti fedeli sono stati my dang bride e mentre i paradise lost si sono più evoluti da diciamo da one second da icon si sono un po' evoluti su questo genere del gothic rock che non gothic metal il gothic rock è che in realtà nasce dall'eredità di sister o mercy a cui rimando al video che avevo fatto diversi mesi fa e dei fields of the nephilim che ovviamente poi queste band rientrati nel genere del cosiddetto gothic rock hanno ovviamente poi diciamo reso un pochino più frivolo da un punto di vista di testi e di tematiche anche spesso di look è il caso ad esempio degli hymn dei 69 eyes a cui rimando ai video che avevo fatto su di loro coi pregio e i difetti che ovviamente sì hanno fatto delle belle canzoni però hanno comunque portato spesso dentro un discorso di frivolezza e poi di conseguenza si sono portati dentro le cosiddette bimbo minchia che stavano dietro a questa scena perché il cantante tal dei tali era figo cioè proprio una cosa che io non ho mai sopportato però che purtroppo è una degenerazione che c'è stata niente allora detto questo direi di avervi fatto una recensione direi abbastanza completa dei principali generi comunque li vedremo ancora nel senso che questo video deve servire da preambolo poi nei mesi successivi comunque vi leggerò anche qualcosina tratto da altre testimonianze cartacee del tempo vedremo comunque recensioni ai cd e quindi poi comunque approfondiremo bene poi sul new metal farò un video a parte allora direi che il discorso è stato abbastanza completo mi pare abbiamo detto tutto quello che c'era da dire tenete presente comunque che di tanto in tanto escono anche degli esperimenti ad esempio legati a dei gruppi più o meno di nicchia come possono essere ad esempio la scena reggae e metal per dire di cui io tra l'altro ho anche intervistato un gruppo poi sotto magari comunque vi metto il link oppure ad esempio certe cose fatte uscire da Dopestars Inc dove loro hanno mischiato addirittura elettronica con un discorso di metal metal in genere viene etichettato industrial electro metal cyber metal per questo discorso molto di riferimento molto a questo discorso di fantascienza e di cyber comunque di scena elettronica i De Berzerker hanno tentato comunque di metterci dentro addirittura un discorso di matrice terror core alla Delta 9 per dire qui rimando ai video che ho fatto sulla scena hardcore quindi in realtà non mancano comunque con Ubi anche con la techno comunque con la tanto vituperata scena elettronica che tra l'altro sono cose che io apprezzo anche abbastanza anche se i gruppi sono molto pochi a dir la verità qualcosina di interessante che era uscito era relativa alla cosiddetta scena graham e metal che però non è famosissima almeno qui in Italia non credo che sia girata tantissimo che è un po' quella scena che mischia mischia le derive del cosiddetto rap avanguardistico di matrice grime o comunque anche di matrice dub spesso a questo discorso di metal che comunque non è male nel senso hanno io ho ascoltato un paio di cose ed erano cose abbastanza diciamo che mi erano abbastanza piaciute o altrimenti la scena avanti guard metal come abbiamo detto cose tipo i sole fad anche spesso qualcosina dei sole work forse o degli arcturus soprattutto che sono un po' un po' un'etichetta che viene messa a tutti i gruppi che sono difficilmente etichettabili anche in parte gli ulver gli ulver più sperimentali che ci mettono praticamente dentro di tutto da sperimentazioni free jets ad esempio al caso dei lux occulta per dire a cose ad esempio relativi per dire altri pop per dire di matrici porti shadow tricky per dire tutte cose un pochino difficili da etichettare che spesso appunto si usa questo termine avanti guard metal che è un'altra scena molto piccola di micchia non mi viene in mente nient'altro ecco a livello di approfondimenti mi pare che sia stato abbastanza completo niente allora spero che i video vi siano piaciuti e che siano state occasioni per fare un po' di chiarezza sui generi se avete domande rispondo volentieri se volete poi lasciare sotto i vostri personali pareri contributi integrazioni anche critiche se avete magari se c'è qualcosa su cui non siete d'accordo e volete farlo presente lasciatelo sotto nei commenti che leggo tutto volentieri niente detto questo ringrazio gli ascoltatori ringrazio le persone che sono interessate a questo argomento che diranno la loro ecco esprimeranno il loro parere e niente vi saluto la prossima analisi ovviamente il libro io ve lo consiglio provate a vedere cercate di non leggiarlo nelle biblioteche provate a chiederlo è un po' vecchiotto però magari col presito interbibliotecario lo trovate altrimenti se lo volete comprare originale tenete presente che costa 14,50 euro magari se lo volete provare a richiedere nelle librerie magari ce l'hanno ancora potete provare a richiederlo però tenete presente che costa già un pochino sono 14,50 euro però tutto sommato sono comunque soldi mespesi perché almeno vi tenete qui vi tenete a casa una guida per quanto sintetica ai generi quindi poi può essere utile anche se volete essere voi stessi a compilare una guida con una breve guida al genere io ad esempio ne avevo fatto uscire una l'avevo caricata sul mio profilo però mi sa che dovrò riaggiornarla perché proprio in quella guida non avevo messo il discorso del progette quindi non più di tanto almeno quindi mi sa che poi effettivamente la dovrò riaggiornare anch'io allora niente detto questo ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato i video con una guida con una guida con una guida con una guida Grazie a tutti